Musica Musica Qui a Salerno, voi siete di San Giovanni Appiro Siete venuti per questa giornata di festa Niente divisa ma avete il basco oggi Come decidi? Niente divisa oggi ma avete il basco Ah Ecco, che cosa significa oggi per voi stare qui? È una bellissima giornata che mi sono iniziale qui Sai, mi piace stare iniziale la gente Ecco, voi avete tanti ricordi Ce ne dice uno di quando è stato prigioniero? Sì, vuole sapere quando sono stato prigioniero 10 settembre 1943 Forza Località Montenegro E quanto tempo siete stato lì? Mentre mesi e 18 giorni Prigionieri No, dove sono stato Ma lo hanno spostato poi Ma come non ci vogliamo? Voi non capisco a me, non capisco a voi Voi ma le dà ricche Che volete sapere e che vado a ricche? Ecco, chi vi ha liberato poi? I partigiani Ma quando ci hanno liberato Ci hanno liberato i nausi a noi Ecco, lei pensava che non sarebbe mai più ritornata a casa? Sì, sì, quando mi trovo avanti che non l'hette risperdute Oggi qui c'è una giornata di festa Ma voi due giorni fa avete fatto un'altra festa a San Giovanni Appiro Sì, sì Mi parla di un po' lo sento Che festa avete fatto? La festa di cento anni Cento candeline Poi è stato fatto militare Un attimo, le faccio vedere Se vuole, questa è una riprigioniera In tedesco Questo è tutto in tedesco Mio nonno è stato prigioniero due anni Quasi due anni con i tedeschi Praticamente, come ha detto lui 20 mesi e 18 giorni Questo è il Lager Pass Lui era matricolo 87 È stato prigioniero in diverse località dei Balcani Tra Pozgorica, Nic L'ultima Nei Balcani, vicino al lago Scuderi Che è Albania Poi l'ultima L'ultima sua L'ultimo superiore di prigionieri L'ha fatta a Graz In Austria Dove è stato liberato dai partigiani Però la cosa bella è che lui Quando è stato istituito alla Repubblica di Salò Praticamente A mio non è stato proposto Di passare come La maggior parte dei fascisti Di passare con Con loro Con i nazisti Bastava cambiare divisa E lui diventava Praticamente da prigioniero Diventava militare Veniva pagato sotto i nazisti Però lui ha sempre rifiutato Infatti su questo libretto Non troverete mai una sua firma Perché lui aveva paura Di firmare qualche cosa Che poi gli faceva cambiare la divisa Perché la sua paura È quella di Una volta scoperto O liberati Praticamente veniva Veniva considerato Un traditore Quindi per me Può essere definito L'antipribiche Se volete usare un termine giornalistico Perché come Pribiche è arrivato a 100 anni Però Pribiche è stato nazista Lui è stato sempre contro i nazisti Ecco questo libretto Che lei ha in mano È detenuto con grande gelosia Insomma da suo nonno Io l'ho visto solo dieci giorni fa Perché praticamente Gli abbiamo organizzato Con tutti i nipoti E le figlie Abbiamo organizzato La festa dei 100 anni Abbiamo preparato una clip E io ho chiesto qualche cosa Io ho vissuto con mio nonno Per 28 anni Nella stessa Non l'aveva No Il libretto Non l'aveva mai fatto vedere A nessuno Aveva una foto di militare Che purtroppo adesso non ho Dietro Perché ce l'ho nella penna Qua Non possiamo scaricarla Però Che è intatta Lui ha una foto intatta Sembra fatta l'altro giorno Da militare Però i suoi ricordi Sono nitidi E Può raccontare Lui può parlare di guerra Per Praticamente Per due giorni Solo di guerra Questo qua invece Questo qua invece Il suo libretto Di Questo quando è stato chiamato Militare Però la leva normale Che è stato È chiamato il 9-10 Del 36 E ha fatto tutto Il militare a Sanremo E qua c'è scritto tutto Soldato di classe 13 Distretto di Salerno Quale rivedibile Poi è stato richiamato Alle armi Con la classe del 15 E invece poi è partito È partito il 39 Il 39 E è tornato a casa Il 45 È stato liberato Il 7 maggio 45 È arrivato a San Giovanni A Piro il 21 maggio 45 10 giorni a piedi Da Graz Fino a Talvisio E non Treviso Come lui Ama sottolineare Ecco ma come nasce Invece l'idea Oggi di dire Qui a Salerno Da San Giovanni A Piro In occasione L'idea è nata Ed è stata Possibile Grazie all'interesse Del maresciallo Salvatore Bianco E tramite Mia zia Maria E suo marito Il nipote diretto Gerardo Magliano Perché praticamente Io volevo regalare Come regalo di compleanno Praticamente un qualcosa Che gli facesse piacere A parte che lui È un tipo molto socievole Che piace stare in mezzo Alle persone Abbiamo organizzato Una festa a San Giovanni Con 300 persone Più o meno Quasi tutto il paese Poi io volevo Che all'uscita della chiesa Praticamente ci fosse Un picchetto Un qualcosa del genere L'avevo contattato Però purtroppo Essendo lontani Non è stato possibile Però c'è stato detto Che se riuscivamo A portarlo qua Gli sarebbe State date Le giuste attenzioni Come Ringraziamo Tutta la famiglia Ringrazia La caserma Davossa Il comandante Per questa Una missione compiuta La missione è stata Veramente compiuta Lui Penso che sia Contento Sicuramente Ricorderà Questa giornata Spero Come uno dei giorni Più belli della sua vita Io Noi siamo tutti contenti Di avergli Fatto questo regalo E grazie anche a voi Per il giusto Tributo Che gli avete dato Anche con la televisione Il figlio di Per il giusto E Per il giusto Per il giusto